Gioielli sardi in passerella all'antiquarium turritano in attesa della grande mostra dedicata ai gioielli di Turris Libisonis che verrà inaugurata in autunno con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali. Grande affluenza ieri sera al Museo archeologico nazionale di Porto Torres alle 21 per la serata dedicata all'arte della lavorazione della filigrana sarda dal titolo Aspettando l'oro di Turris. Un'occasione unica per ammirare i manufatti della tradizione orafasarda e la loro evoluzione storica. Riconoscibili e rinomati gli ornamenti in oro e in argento lavorati con questo particolare tipo di intreccio mantengono intatto il loro fascino e sono riconosciuti come segni distintivi della Sardegna. La serata ha visto sfilare le modelle con la collezione disegnata da Tiziana Andolfi. L'evento è stato presentato dallo scrittore Marco Piredo con la partecipazione di Studio Danza. In conclusione la performance di Marino De Rosas.